Il giorno più atteso dai fedeli marchigiani è arrivato. Oggi è stato il giorno di Papa Francesco a Loreto, una visita che nelle intenzioni del Santo Padre doveva essere intima, privata, quasi segreta per l'omaggio a Maria nella Casa Benedetta ed invece si è trasformato in un bagno di folla. Ad attenderlo in piazza del santuario oltre 9.000 fedeli ai quali Papa Francesco si è concesso dopo aver celebrato messa alla presenza di pochi intimi nella Santa Casa ma che grazie a dei maxi schermi è stata seguita da tanti fedeli assiepati all'esterno e seguita anche via Etere grazie alla diretta di Fano TV della visita del Santo Padre a Loreto. Questa non è la prima volta nelle Marche di Papa Bergoglio, la prima è stata nel 2016 ad Arquata del Tronto nelle zone ferite dal terremoto e anche questa volta ha trovato il modo per far sentire la sua presenza e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto nelle zone interne delle Marche. Alle 8.45 infatti l'elicottero con a bordo il Pontefice si è abbassato sulla cittadina Diamandola ed ha sorvolato a bassissima quota il campo sportivo dove in sua attesa si erano radunati centinaia di residenti e degli alunni delle scuole che sventolavano bandierine bianche e gialle, i colori del Vaticano. Il Papa ha salutato i presenti dallo finestrino dell'elicottero mentre sul terreno nel campo sportivo i bambini erano disposti per formare la scritta Ciao. Il tutto è durato pochi istanti prima che l'elicottero di Francesco proseguisse per Loreto ma in un clima di grande emozione. Poi l'elicottero con a bordo il Papa è atterrato presso il centro giovanile Giovanni Paolo II in località Montorso. Al suo arrivo è stato accolto dall'arcivescovo prelato di Loreto Monsignor Fabio Dalcin, dal presidente della regione Marche Luca Ceriscioli e dal prefetto di Ancona Antonio D'Acuto e dal sindaco di Loreto Paolo Nicoletti. Quindi si è trasferito in auto al santuario della Santa Casa accolto dal rettore padre Franco Carollo, dal vicario generale della delegazione pontificia Don Andrea Principini, dal vicario generale della prelatura della Santa Casa di Loreto padre Vincenzo Mattia e dal segretario generale della delegazione pontificia Claudio Quattrini. Dopo la messa ed un lungo momento di raccoglimento il Papa ha firmato l'esortazione post-sinodale dedicata ai giovani. Ha vergato la sua sigla sul documento appoggiato sull'altare dinanzi all'immagine della Madonna Nera venerata da milioni di pellegrini e poco dopo le undici ha incontrato i fedeli. Non ci sono autorità ma malati su sedi a rotelle, volontari che li accompagnano e giovani nelle prime tre file in piazza della Madonna a Loreto davanti al sagrato della Basilica della Santa Casa in una piazza stracolma di gente. E poi dopo il suo discorso ai fedeli e la recita dell'angelo sul sagrato del santuario della Santa Casa Papa Francesco è salito su una piccola papamobile elettrica scoperta facendo prima il giro tra la folla riunita in piazza al suono delle campane di tutte le chiese di Loreto e poi dirigendosi per le vie della città mariana in modo da salutare più gente possibile